e here we go with the last long distance final la prima campana sarà quando falteranno 43 sueltas la prima campana suonerà a meno 43 i primi punti a meno 42 e sembra siano già mettendo in chiaro le cose Jason Suttles e Bart Strings i due compagni di squadra del Belgio con il campione del mondo Juan Mantilla in terza posizione e poi il nostro Giuseppe Bramante che porta i segni della caduta di ieri ma stamattina molto determinato in qualifica molto determinato in qualifica sempre i due belgi davanti e poi Mantilla all'esterno si fanno vedere anche i francesi i fortissimi i fortissimi francesi due campioni del mondo Martin Ferrier dietro di lui Timothée Lubinot anzi Timothée Lubinot e poi Martin Ferrier Martin Ferrier anche il campione del mondo di maratona qui abbiamo una serie una serie incredibile di campioni del mondo con anche un campione olimpico che è Bart Strings campione olimpico due ormai due due anni fa anche vincitore di Coppa del mondo e non sono ho perso il conto dei titoli mondiali per il grandissimo campione belga siamo a meno 46 sempre belgio davanti Jason Suttles Bart Strings e poi i due colombiani Juan Mantilla e Andres Gomez poi Giuseppe Bavante all'esterno la nazionale francese e qui il lavoro di squadra anche solo due per team è importantissimo come abbiamo visto precedentemente team work is extremely important here 4-3-8 first warning 4-3-8 warning here we were saying that team work is extremely important in this kind of race even with two skaters per team per national team is extremely important we've seen with the Colombians but also with the French before and now we're seeing with the Belgians Juan Mantilla keeping an eye all the time on bad things and now it should be the first bell now and here we are Juan Mantilla he's in fantastic condition here and Bart Strings he doesn't like to lose he doesn't like to lose and then keeping an eye on him and now they are pushing like hell in this first points points 9-1-2 points 29-1 points 91-2 punti 29-1 punto and now Bart Strings is going to do what he likes most going in a breakaway Bart Strings Juan Mantilla in a breakaway and Andres Gomez and Andres Gomez Andres Gomez what is he doing now he's a teammate I don't know probably it's a teamwork I don't know they somehow managed to do it 91-2 points 29-1 points 91-2 punti 29-1 punto 4-3-3 eliminated 4-3-3 eliminated oh there's a crash the Spanish is greater 29-2 points 91-1 points 29-2 punti 91-1 punto Manuel are you ok? Manuel Taivo sfortunatissimo adesso è Alessio Clementoni che si porta davanti ma sono i due in fuga and they are officially on a breakaway Bart Strings and Juan Mantilla 1-3-5 eliminated 1-3-5 eliminated come si dice nel ciclismo stanno andando a tutta 29-2 points 91-1 points come si dice nel ciclismo stanno andando a tutta dall'inizio alla fine e rilancia Bart Strings e rilancia prova ancora ad accelerare no elimination hanno una curva di vantaggio numero 8 seconda munizione number 8 second warning number 8 second warning e adesso è Timothee Lubinó Timothee Lubinó che sta provando ad andare a chiudere andres 91-2 points 29-1 points 91-2 punti 29-1 punto e guardate la curva fantastica di andres che adesso sta andando a recuperare rilancia Bart Strings sta provando sta provando a staccare il campione del mondo sta provando a staccare Juan Mantilla dietro di lui andres Gomez e poi Timothee Lubinó abbiamo 4 campioni del mondo nelle prime 4 posizioni con dietro one-one-nine eliminated one-one-nine eliminated 119 una gara su ritmi pazzeschi 91-2 points 29-1 points ed è partito andres 91-2 punti 29-1 punto ed è partito andres gomez ancora un colombiano adesso ha mandato davanti Jason Sattles la squadra belga con Timothee Lubinó martin ferrier terzo e quarto e adesso ha preso un po' di vantaggio andres 3-8 eliminated 4-3-8 eliminated stanno girando a ritmo di 16 secondi al giro e adesso è davanti ancora davanti andres gomez con Jason Sattles in seconda posizione ha mandato davanti il compagno di squadra Bart 8-8-8 2 points 28-1 points 91-1 first warning 91-1 first warning 3-9-6 eliminated 3-9-6 eliminated 3-9-6 eliminated 280-2-2-8-6-2-8-0 eliminated 2-8-0 eliminated 280 1, 3, 2, 2 points 1, 7, 9, 1 points and now currently the current ranking is Mantilla with 10 points and Bart Swings with 8 points and then Andres Gomez with 2 points 54 eliminated 54 eliminated Bolaños e poi Jason Suttles una gara corsa su ritmi pazzeschi 1, 3, 2, 2 points ed ecco Giuseppe Bramante Giuseppe Bramante si fa vedere in prima posizione allunga bene e allunga bene Giuseppe Peppe Bramante poi Andres Gomez poi ci sono i due francesi poi Livio Wenger poi Marco Lira Marco Lira 4, 4, 0 eliminated 4, 4, 0 eliminated 440 va a prendersi un punto importantissimo Peppe Bramante vediamo se ne va per continuare ma l'ha una gara 8, 8, 2 points 2, 7, 7, 1 points va a prendere 2 punti Andres Gomez 1, Bramante e adesso sono i francesi davanti con Timothée Lobino Martin Ferrier Livio Wenger in 3rd place and then Giuseppe Bramante Marco Lira sono loro adesso 3, 2, 2 eliminated 3, 2, 2 eliminated Livio Wenger tries to push to push as much as he can to go and get a point 3, 3, 2 sorry 3, 3, 2 3, 3, 3, 2 Messico Livio Wenger e chi c'è che recupera è ancora lui è ancora Andres Gomez che va a chiudere sui due che non sono proprio in fuga ma hanno fatto un allungo interessante un allungo molto interessante 3, 7, 4, 2 points 1, 7, 6 1 points sono Livio Wenger Martin Ferrier poi Andres Gomez qui abbiamo 4 atleti di livello mondiale con Livio Wenger che si è presentato in gran condizione a questo campionato Livio Wenger and then Martin Ferrier in 2nd place and then Andres Gomez e Marco Lira hanno preso un po' di vantaggio and Batswings 3, 7, 4, 2 points 1, 7, 6 1 points Marco Lira e poi nel gruppo degli inseguitori ci sono ancora i due francesi Martin Ferrier Timothée Lubinot 3, 7, 6, 5 2 points 8, 8 1 points 20 eliminato stop please 20 eliminato stop please number 277 warning 277 warning and now Andres Gomez and Marco Lira it looks like they are in a breakaway a great work for Andres Gomez from the beginning 1, 3, 2 eliminated 1, 3, 2 eliminated and now Jason Sattles and Batswings trying to trying to 8, 8 2 points 3, 6, 5 1 points the ranking so far 10 points for Mantia 8 for Patswings and 7 2, 7, 7 eliminated 2, 7, 7 eliminated number 3 9, 3 3, 93 disqualified number 393 disqualified 29, 2 points 91, 1 points 29, 2 punti 91, 1 punto e questa è particolarmente spettacolare questa è una spettacolare race con i turc current leaders 393 disqualified 193 eliminato 393 chan-ching-coo stop skating please now timothy lubino 2, 9 2 points 91, 1 points and 9 laps to go timothy lubino ortiz martin ferrier livio venga kenkowada good surprise from the argentinian skater livio venga from the inside and 8 laps to go faltanocho vueltas go and sprint for the points livio venga martin ferrier now 12 points each 12 points each for bar swings and juan mantilla they fought till the end yesterday for the title and uh one month one month and now the french team 3, 7, 4 2 points 1, 7, 6 1 points livio venga again 28 eliminated 28 eliminated livio venga martin ferrier from the outside they are sprinting for the points martin ferrier he keeps on pushing he keeps on pushing the marathon world champion martin ferrier si guarda indietro dice non c'è nessuno non c'è nessuno vicino a 5 punti ce la può fare 1, 7, 6, 2 point 3, 7, 4 1 points e siamo all'ultimo chilometro siamo all'ultimo chilometro martin ferrier keeps on pushing leave your venga in second place and then timothee lubinot of course he couldn't push he can't he can't push his teammate out in a breakaway out in front four eliminated 8 eliminated 8 eliminated martin ferrier adesso si è un po' indurito ma è normale deve dare tutto il campione francese mancano 3 1, 7, 6, 2 points 3, 7, 4, 1 points and now it is going to be extremely important even between bad swings and Juan Mantilla the the ranking at the finish line they are still together but martin ferrier out in front with leave your venga in second place last two laps last two laps number 8 eliminated number 8 eliminated allez martin martin ferrier leave your venga otis in second in third place and look look at how how Juan Mantilla is keeping an eye on bad swings number 1, 7, 6 2 points number 3, 7, 4 1 points ah this is an amazing race this is a fantastic race 2 points please sorry martin ferrier out in front Juan Mantilla tries to to leave to leave and to drop bad swings again like it happened yesterday amazing amazing martin ferrier leave your venga one mantilla and Bart swings and now we are waiting for the official ranking we are waiting for the official ranking but of twentyars and to to